Ciao a tutti Oggi siamo a Milano Stiamo facendo un giro Con loro Non so se si vede Devi salutare Ah ciao tutto bene E in pratica E' successa una cosa un po' scupida Nel senso che ci siamo fermati Per fare un selfie in modo alternativo Perché hai scritto? Vabbè Cioè qua di fianco a me mi manda un messaggio No ovvio No te l'ho mandato Ma scritta te Hai scritto a me? Ah dobbiamo provare la cosa di Facebook Mi ha sbagliato a mandare un messaggio In pratica abbiamo fatto un selfie in modo alternativo Nel senso che si sono messi non so in che modo Sembrava tipo a Cariola E hanno fatto un selfie Imbarazzante Davanti ai tipi che vendono gli stick per fare i selfie E ma chi dice C'erano due ragazzi che si stavano facendo foto a vicenda E uno dei due viene qua e ci ha chiesto di fare una foto con me E la mia migliore amica C'è cose normali no? O no? Ciao ragazza bella come il sole Non c'è bisogno della luce per vedere quanto sei bella Sì grazie Posso fare una foto con te? Però devi farlo cattivo Ma lo sto filmando tranquillo Devi provarci Cos'hai fatto? Andiamo in mezzo ai piccioni Che stronza Dai Mi hai bagnato completamente Che s***o Mi ha bagnato completamente il vestito Non si vede Si vede Si si vede Il sole E ma chi cazzo Cazzo si corre quello Aiuse Non si vede Non si vede Perché corre? C'è la polizia Ma la sta andando verso la polizia Ma che Di qualsiasi cosa Qualsiasi Scusi dove hai trovato? Giovanni C'è quello giapponese Non si chiamerà Marco Si chiama Pimbo Vai facciamo un selfie Selfie bianco nero Eh ma ragazzi Sono nero Oh non mi dire che mi filmi Oh ti faccio nero Che simpatico Eh beh Hai fatto selfie con l'uomo nero Almeno c'hai ricordi di me Eh si Fanno i battitoli punti di te No 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 Lei ce l'ha No Mi andrebbe di fare un selfie Eh Un reclupo Nesta selfie Ah selfie no Ok Sassano ai Un reclupo Un reclupo Un reclupo Nero No Ok P Graham Ciao E' un reclupo No 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 Freddoli! Viva l'inglese! Martina, hai la telecamera interna e la telecamera interna! Che fail, che fail! Non mi ero accorta di avere una telecamera interna! Questa può di averla cambiata in questo video! Stiamo per tornare a casa e io non riesco a tenere la telecamera! No! Eh, ora ce l'hai fatta! Che? Parlare di patente in giro? Eh? Niente! Perché fai il terzo dito? Allora ti faccio anche il quattro! Guarda di tornino che cosa c'è! Già l'ho chiuso una macchina! Stavo commentando un ragazzo che ho visto! Tipo, con chiesure, con le stade scure, cazzo! Ahahahah! Perché sei corso giù vai? Sì! 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 State, erano!